sesto webinar fa parte di una lunga serie di una campagna di comunicazione che abbiamo deciso di organizzare insieme presso le token all intendiamo collaborare con i nostri stakeholder veterinieri consumatori per garantire una migliore salute degli animali e offriamo soluzioni per aiutarvi a superare tutte le difficoltà che avete a livello terapeutico e preventivo nel trattamento della mastite prevenzione della mastite con strumenti e gestione preventiva e abbiamo anche una partnership con dei servizi molto interessanti il nostro argomento oggi è proprio quello relativo ai sistemi automatizzati per la mongitura i nostri relatori stasera sono sophie pippers e europe drissen abbiamo selezionato questo argomento dopo aver trattato vari aspetti sulla salute della mammella ci siamo detti che era interessante anche valutare sistemi di mongitura robotizzati con questi nostri due relatori per aiutarvi ad adeguare il vostro approccio i nostri relatori quindi sophie pippers che è docente presso l'università di ghen ovviamente ricercatrice appassionata di mastite di qualità del latte e europe drissen che lavora per chaos signals un esperto quindi è consulente fondatore di chaos signals vette veterinario con un approccio molto concreto a te la parola sì grazie mille sono molto entusiasta di essere qui con voi con tutti i veterinari che si sono collegati da tutto il mondo sono molto lieto di potervi aiutare con qualche dritta quali sono i vantaggi e le sfide legate alla mongitura robotizzata per la salute delle mammelle allora a me piace molto la mongitura robotizzata infatti se si valuta le statistiche in olanda il 40 per cento del latte proviene già da questo tipo di mongitura quindi devo dire che la mongitura robotizzata nei paesi del nord funziona molto bene tutti i sistemi sono stati collaudati anche se erano una grossa sfida 25 anni fa ci sono ovviamente molti vantaggi lo svantaggio era la vicinanza tra i box però ecco ci siamo detti che con un box singolo ben isolato si ottenevano i migliori risultati innanzitutto voglio porvi questa domanda per quale motivo le donne che mungono tengono l'8 per cento in più di latte allora è molto interessante questa domanda bisogna porsela non vedo nessuna suggerimento sulla chat però dovreste porvi questa domanda e poi la seconda domanda che vorrei porre i robot hanno queste qualità allora possiamo dare un nome femminile ai robot ma non aiuterà sicuramente quindi i robot sono molto regolari le donne in generale sono molto più brave nel mungere perché ottengono l'8 per cento in più di latte dalle stesse mucche significa che quindi fanno un migliore lavoro per via della pazienza della voce del tono di voce molto più dolce hanno mani più morbidi garantiscono una migliore igiene sono quindi molto più brava nel mungere i robot fanno la stessa cosa ogni singola volta ed è per questo che funzionano bene se si valuta la mungitura robotica si ottengono ecco varie informazioni molto interessanti sul conteggio delle cellule la febbre la ruminazione la separazione del latte la ruminazione interessante perché da un punto di vista della tecnologia ci sono grosse differenze non so se avete mai valutato il tasso di ruminazione di 600 però noi misuriamo anche allevamenti dove c'è un tasso di 400 una differenza di tre ore per vacca quindi insomma l'impianto automatico vi dà informazioni molto utili sul latte poi se avete una conta molto elevata bisogna forse ecco intervenire selezionando automaticamente le vacche questo è uno dei vantaggi offerti qui vediamo una locale di selezione quindi può essere utilizzato questo anche per gruppo che ha bisogno ovviamente di essere ecco è nasciuta dietro il robot per questo che una volta due volte al giorno bisogna tener conto della necessità di asciugare per evitare difficoltà dietro il robot si procede quindi in questo modo e poi c'è bisogno di un ottimo posto dove poter operare se mancate di posto potete perdere l'efficacia nell'attività quindi bisogna quindi predisporre un pavimento una pavimentazione di gomma che consente ovviamente un trattamento ideale una persona al giro di un minuto deve poter trattare una mucca per ottenere migliori effetti spesso ci accorgiamo che negli allevamenti questi controlli avvengono nei box ma è rischioso perché spesso vengono selezionate e hanno un conteggio delle cellule somatiche troppo elevato e comunque sia la nostra regola numero uno per un trattamento efficace è quella che vedete presentata qui per evitare casi di mastite e altre altri disagi ci sono che quando sono ferite ovviamente presentano rischio più elevato di mastite o di ferite quindi bisogna prevedere un trattamento in una volta solo allora i robot automaticamente tolgono il gruppo dopo il gruppo di mongitura quindi rispetto agli altri sistemi è più efficace quindi la macchina automaticamente stacca però se c'è il materiale che non è sostituito abbastanza regolarmente come per esempio la guana di pendicapezzoli c'è il rischio di infezione il flusso del latte altro fattore interessante se si utilizza lo stesso tempo di connessione lo stesso numero di secondi ci sono problemi legati al flusso si ottiene nel giro di pochi minuti la mongitura allora per quanto riguarda i 6-7 minuti dipende da quanto tempo rimane in piedi anche la mucca è importante che la mucca rimanga in piedi per questo trattamento allora la metà delle mucche purtroppo presenta delle problematiche legate ai capezzoli bisogna forse in questo caso progettare questo tipo di trattamento in maniera specifica per agevolarvi vi darò alcuni esempi concreti alla fine allora vediamo se qualcuno scrive nella chat allora qui vedete l'importanza di un luogo pulito dove le mucche possono riposarsi e poi ovviamente bisogna evitare che ci sia letame sugli arti e sulle code bisogna migliorare quindi l'igiene hanno bisogno di una certa distanza dal suolo e il vantaggio quindi principale legato al robot è il tempo di mongitura molto più breve e poi ovviamente lo spray ok mi sono accorto in vari casi che lo spruzzo non fuoriusciva il robot per una giornata intera non spruzzava e quindi questo significava meno protezione per le mucche lo spruzzo è importante l'idea è importante quindi che ogni capezzolo venga spruzzato quindi tempo trascorso in piedi questo è molto importante a volte 5 ore quindi se si fa tre volte la mongitura possono essere gruppi di animali che rimangono troppo a lungo in piedi 5-6 ore rispetto ai 6 minuti beh per un robot sono 6 minuti moltiplicati per 3 5 ore rispetto a mezz'ora è la differenza tra la mongitura automatizzata e la mongitura nei grandi allevamenti c'è molta più libertà per le vacche che hanno molta più libertà e si possono riposare quindi molto di più e quindi producono molto più latte sappiamo che quando le mucche rimangono in piedi troppo a lungo questo può provocare delle difficoltà di zoppia per molte mucche se c'è meno se ci sono meno zoppia è molto meglio per quale motivo una mucca è soggetta a zoppia perché rimane in piedi troppo a lungo per via dell'etame e per via dello stress in inglese sono le 3S e molti veterinari purtroppo non riescono a veicolare questo messaggio abbastanza chiaramente al veterinario perché sappiamo che c'è un 25% di zoppia presso gli allevamenti bisogna quindi segnalare questo fattore di rischio all'allevatore quindi rimanere in piedi sul cemento lo stress e il letame provocano zoppia quindi bisogna garantire un'igiene della pavimentazione del letto della mucca per quale motivo il robot non è il posto migliore per le manze perché la maggior parte dei robot non sono adatti alla mongitura per le manze per la prima volta ebbene questo è un robot in Finlandia 15.000 litri l'anno un tipo molto interessante che ha diciamo iniziato a trattare la maggior parte delle anche in questo modo per quale motivo il robot non è il posto migliore per mongere le mucche per la prima volta per vari motivi uno perché provoca stress e quindi bisogna ovviamente evitare questo quindi l'adrenalina interrompe il flusso del latte con lo stress secondo c'è molto meno latte e non tutto il latte fuoriesce quindi si perdono litri di colostro in questo modo e poi il mix adatto ai vitelli non è l'ideale quindi è previsto un è accesso per mantenere il latte col colostro direttamente nel secchio per evitare che venga trasferita all'altro secchio che non viene mai pulito abbastanza bene quindi se si munge questa vacca per la prima volta nel robot è problematico è per questo che si procede in questo modo si munge la vacca così con il vitello di fianco e a quel punto ci saranno 45 litri di colostro lo stress provoca la mancanza di colostro quindi è importante anche riuscire a provocare un minimo di stress per agevolare la mungitura noi abbiamo creato questo manuale che vi aiuta a capire come intervenire se fate tutto nel giro di mezz'ora direi allora otterrete i migliori risultati anche per prevenire la mastite e anche per iniziare meglio la giornata ci saranno meno rischi e grazie al sistema cuddle box otterrete migliori risultati una vacca da latte dentro un'ora insomma ecco questo avrà un impatto notevole poi ovviamente se si svuota completamente avrà anche più fame e avrà più appetito inizierà a mangiare di più meno rischio di mastite quindi qui vediamo i gradi sono cambiati l'inclinazione è cambiata questo va modificato affinché si possa mungere in maniera sicura questo è uno dei vantaggi principali qui vedete che la seconda volta vanno direttamente al robot e poi vanno trasferiti quindi in sostanza se volete realmente dialogare con gli elevatori ci sono dei consigli importanti da comunicare questi sono i punti essenziali che aiutano a capire per quale motivo non bisogna utilizzare lo stesso secchio per alimentare le mucche uno dei consigli più utili è progettare correttamente i locali dove vengono costuditi gli animali come vengono nutriti noi siamo anche ovviamente formati nella somministrazione dei farmaci però bisogna evitarli nella maggior parte dei casi se possibile quindi con un buon consiglio dato agli elevatori sarete i loro migliori interlocutori quindi bisogna dirsi anche che un'altra questione importante è come mungere la mucca durante la seconda mungitura questo può provocare parecchio stress quindi bisogna in questo caso evitare di passare dietro la mucca bisogna fare in modo che l'altra mucca vada per prima per seguirle oppure che si ecco sposti da sola bisogna creare una parete virtuale si fa un passo indietro e entrerà direttamente questi sono i consigli di un collega statunitense vedete che questo personaggio questa persona si trova nel posto peggiore ecco questi sono i consigli che posso darvi sulla progettazione di un locale robotizzato di successo che garantisca il massimo reddito e la salute delle mucche vedete che questo è un sistema completo con entrate e uscite per le mucche e poi ci sono le cadu box se fate le cose correttamente ci sarà sicuramente ci saranno risultati positivi noi abbiamo progettato molti di questi locali in tutto il mondo sono diventati un standard per così dire sappiamo che è importante dare la possibilità le mucche di spostarsi in questa direzione e poi c'è anche qualcosa di molto interessante una mucca può sempre essere pronta ad entrare la raccolta delle mucche massimo 5% l'area di raccolta accanto al robot se tutto viene organizzato quindi bisogna pensare a come progettare il locale se mettete un impianto automatizzato in un locale esistente ecco bisogna pensare al fatto che a sinistra bisogna mettere il robot e separare le aree tra le vache nasciutta e quelle che stanno per avere i loro vitelli bisogna creare una separazione distinta qui vediamo il modo in cui è stato progettata questa zona è abbastanza tecnico però noterete che non c'è nessun rischio di provocare zuppia alle muche quindi per costruire un nuovo locale bisogna veramente ripensare a come fare le cose e ci sono varie alternative la selezione la creazione di box specifici quindi progettando correttamente risparmiate molte vi risparmiate molte problematiche successivamente qui abbiamo quattro gruppi 120 che penso di avervi detto tutto qui vediamo una bellissima fattoria in Olanda con un accesso agevole all'impianto di mungitura e ovviamente è importante investire in un dispositivo di questo tipo molto più efficace visto il numero di mucche che passa dal luogo questo è il progetto che prevede l'accesso di questi che entrano da qui e poi entrano in questa zona automaticamente escono dove sono selezionate e poi possono rimanere in quella zona quindi è una soluzione automatica da parte dei robot che è essenziale in sintesi la mungitura automatica è una grande invenzione perché ogni giorno offre lo stesso risultato bisogna ovviamente essere addestrati circa l'utilizzo per ottenere la maggiore efficienza e il conforto delle mucche senza mastite grazie mi auguro di poter leggere tutte le vostre domande nella chat tra qualche istante grazie molto interessante la sua presentazione con moltissimi consigli utili grazie prego e ora passiamo a Sophie che ci parlerà dello stesso argomento riuscite a vedere il mio schermo buonasera a tutti come ottenere quindi un servizio adeguato quando i vostri allevatori sono dotati di robot di mungitura innanzitutto vorrei discutere l'approccio alla salute della mammella ci sono differenze tra gli allevamenti tradizionali e quelli con sistemi automatizzati vorrei parlare dei messaggi più importanti iniziamo subito con l'approccio alla salute della mammella coloro che mi conoscono sanno che sono molto organizzata e strutturata questi sono i quattro step che io seguo quando devo occuparmi di problemi legati alla salute della mammella devo capire se è un problema clinico se c'è un aumento delle cellule somatiche cerchiamo di capire la causa dei problemi ci può essere un elevato conteggio delle cellule somatiche per via di una percentuale più alta delle infezioni durante la lattazione che è possibile per via di nuove infezioni durante il periodo di asciutto e poi c'è il motivo se c'è un'alta percentuale di nuove infezioni durante la mongitura è possibile che ci sia molta infezione dilagante e è possibile che questo sia anche legato ad una infezione tra una mongitura e l'altra e poi bisogna trovare la soluzione più adatta o un motivo specifico che spieghi questi problemi cerchiamo di applicare questo su i sistemi automatizzati innanzitutto cerchiamo di capire quali sono i problemi se si parla di mastite innanzitutto bisogna chiedersi se ci sono problemi diversi nell'automazione no sono problemi legati alle cellule somatiche alla mastite clinica alla mastite delle manze ma non ci aspettiamo nessun tipo di problema legato alla salute della mammella su un sistema automatizzato rispetto ad uno tradizionale se valutate le cause del problema per esempio nuove infezioni durante la lattazione bisogna chiedersi se ci si aspettano differenze no ma esistono dei dati a riguardo quello che potete vedere qui è la percentuale di nuove infezioni e la percentuale di infezioni croniche utilizzando i dati relativi alle cellule somatiche abbiamo determinato le infezioni in 60 allevamenti tradizionali e 60 robotizzati qui potete vedere tutti quindi tutte le aziende lattiero caseare con un livello di sopra del 5% tutte queste fattorie hanno più del 5% di nuove infezioni però si nota anche lo stesso modello per le fattorie robotizzate non ci sono molte fattorie con meno del 5% di nuove infezioni al mese e di nuove infezioni 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 che hanno più cliccate su di nuove infezioni di nuove infezioni di nuove infezioni mi per si v il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.